Giovanni, come sei? Abbiamo visto due settimane in Strade Bianche che la forma è buona. Quindi Trentino e Liegi spero di raggiungere un gran risultato. Che aspetti di oggi? Oggi è una tappa un po' simile a ieri, forse un po' più dura. Dobbiamo stare attenti un po' al vento perché qui in passato è successo anche qualcosa a causa del vento. Cercare di stare davanti per non prendere secondi in finale e sperare nelle prossime tappe. Perché sei veloce e c'è una scelta a 10 km, magari è buona per te oggi? Ma sì, magari se starò bene si creerà un'azione importante sull'ultima salita. Potrei provare ad entrare a fare una volata. È vero che sono veloce però le volate di gruppo sono un'altra storia. Ci vuole anche magari un pizzico di coraggio in più che io non ho. Però insomma sicuramente se ci sarà l'occasione proverò. Per te la migliore stagione è una del Viela. Sì, è una delle tappe migliori per me. Diciamo che da domani ci sono tutte belle tappe dure e in una di queste vorrei provare a far bene. Che sia rimanere con i primi o provare una fuga, insomma ci proverò. Grazie.